Attualmente solo dal centro locale di Oristano, che è uno dei 12 centri locali della Sardegna, sono all'estero 19 ragazzi. Sono Laure, attualmente vivendo il mio anno all'estero in Russia. Adesso abito a Montreal, in Quebec. Sto trascorrendo il mio anno all'estero in Giappone. Sono qui in Repubblica Teca da poco più di mese. Sto trascorrendo il mio anno negli Stati Uniti, in North Carolina. Sono qua da circa due mesi e sto facendo questo video per invitarvi a documentarvi su Intercultura. Tutto il centro locale di Oristano è attivo in questi giorni per promuovere i programmi scolastici di Intercultura, programmi scolastici all'estero, sempre più richiede. Provateci perché è un'esperienza che vi cambierà la vita, vi cambierà il modo di vedere le cose, vi cambierà tutto. 31 Open Day, una formula diversa. Siamo ospiti del liceo classico, il 31 ottobre appunto dalle 15.30 in poi, con dei banchetti dedicati alle varie tematiche dei programmi all'estero e degli spazi più ampi per incontrare le famiglie.